L'Abruzzo fa registrare due nuovi casi di positività al covid-19 nella giornata odierna che emergono dall'analisi di 1.466 tamponi, lo 0,1% dunque di positivi sul totale. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 3.257 dunque i casi di positività al covid-19 diagnosticati dai test eseguiti a Pescara, a Teramo, a Chieti e all'Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 415 pazienti deceduti, numero invariato rispetto a ieri. 2.172 sono i dimessi e i guariti, più 36 rispetto a ieri. E 2.032 le persone che hanno risolto i sintomi dell'infezione risultando così negative a due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo calcolati, sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e dei guariti e dei deceduti, e di 670 unità, con una diminuzione di 34 rispetto a ieri. Attualmente 103 pazienti, meno 6 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 573 in calo di 29 unità rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con solverglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 247 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 824 alla ASL Lanciano-Vastochieti, 1527 alla ASL di Pescara e 659 alla ASL di Teramo. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 80.972 tamponi, di cui 74.851 sono risultati negativi.